Voglio fare la mamma George, George, dove sei? Uffi, non riesco a trovarlo da nessuna parte, ma dove si sarà cacciato? George, vieni qui! Ah, eccoti George, finalmente ti ho trovato! Hi hi, Peppa, Peppa! Senti George, ti va di giocare insieme a me? Sì, sì, Peppa, giochiamo, giochiamo! Dinosauro, dinosauro! No, George, non giocheremo al dinosauro, giochiamo alla famiglia! E come si gioca alla famiglia, Peppa? Beh, è semplice, George, io faccio la mamma e tu fai il bimbo! Uffa, ma a me non piace fare il bimbo piccolo! Dai, George, non lamentarti! Vedrai che è divertente! Allora, George, intanto mettiti qui su questo seggiolone che io ti porto la pappa! La tua mammina arriva subito! Ecco qui, piccolo mio! La mamma ti ha portato la pappa! Mi raccomando, mangiala tutta, così cresci e diventi forte! Ma che cos'è questa pappa? Fa una strana puzza! Ma no, piccolino, è buonissima! C'è latte, un po' di pane, un po' di cereali, poi ci sono dei biscotti, è buonissima! Beh, beh, non mi piace Peppa! George, non mi devi chiamare Peppa, mi devi chiamare mamma! Da adesso io sono la tua mamma! Uffa, non mi piace questo gioco! Su, piccolino, calmati, c'è qui la mamma! Allora, visto che la pappa non ti va, adesso ti porto a fare un bel riposino! Ma io non ho, Sionno, non voglio dormire! Eccoci qui, piccolino mio! Ora la mamma ti mette anche la copertina, così non sentirai freddo! Ora puoi dormire al calduccio! Ma io ho caldo, Peppa! Uffa, caldo, caldo! Su, piccolino mio, non fare così! Adesso la mamma ti canta una bella ninna nanna! Ninna nanna, ninna o! Questo bimbo a chi lo do? Basta, uffa, non la voglio la ninna nanna! E poi ho caldo! Piccolino mio, non ti agitare! La mamma sa di cosa hai bisogno! Vieni con me, andiamo a cambiare il pannolino! Probabilmente sarà molto sporco, per questo sei così nervoso! No, no, il pannolino, no! Dai, su, piccolo, vieni qua, non scappare! Eccoci qui, piccolo mio! Adesso ti cambierò il pannolino! Mi raccomando, stai fermo perché da qui potresti cadere, sai? È molto pericoloso! Basta, Peppa! Io mi sono stancato! Non lo voglio più fare, il bimbo! Ma, George, cosa dici? Ci stiamo divertendo! È solo un gioco, dai! No, Peppa, io non mi sto divertendo e adesso vado via! Trovati un altro bimbo! Ciao, me ne vado! Ma, George! Peppa, come mai quel muso lungo? Per caso è successo qualcosa? Sì, mamma, George non vuole giocare con me! Io volevo giocare alla famiglia e lui doveva fare semplicemente il bimbo piccolo! Ma ha detto che non vuole più giocare con me e che si è stancato! Beh, Peppa, forse per lui fare questo gioco non è molto divertente! Dovreste trovare un gioco che piace ad entrambi! Come non è divertente! Giocare alla famiglia è un gioco bellissimo! Beh, Peppa, lo sai che a George piace fare altri giochi! Pensa se ad esempio George ti chiedesse di giocare a fare il dinosauro! Forse anche a te non piacerebbe! Mmm, sì, mamma, forse hai ragione! Ora andrò da George e proverò a chiedergli se gli va di fare un altro gioco! Ehi, George, senti! Volevo chiederti scusa per averti costretto a giocare con me e a fare il bimbo piccolo! Se vuoi, per farmi perdonare, ora faremo un gioco che sceglierai tu! Sì, sì! Evviva, evviva! Grazie, Peppa! Allora, giochiamo ai dinosauri! Allora, giochiamo ai dinosauri!